Lezione della guida del sentiero numero 21, 17 gennaio 1958, la caduta Saluti nel nome del Signore, siate tutti benedetti, miei cari amici L'ultima volta che vi parlai di come nacque il male, questo argomento ha dato da pensare a molte persone che non riescono ad immaginare come un Dio d'amore abbia potuto permettere l'esistenza del male A quegli amici che sono qui per la prima volta, suggerisco di leggere le mie ultime due lezioni per comprendere questa odierna che ne costituisce la continuazione Per ricapitolare brevemente, ho spiegato che molto prima dell'esistenza del mondo materiale Alcuni esseri creati furono dotati non solo di liber arbitrio, ma anche di un certo potere Ne abusarono Ho spiegato come la caduta degli angeli, come viene chiamata, avvenne gradualmente Con un lento processo di degenerazione, per il quale tutto ciò che era divino si mutò molto lentamente e gradatamente, nel suo aspetto opposto In tal modo avvenne una separazione tra chi abusò del suo potere e chi non lo fece Ho detto spesso, e questo vale per tutti gli esseri spiriti e umani che i vostri atteggiamenti, opinioni, sentimenti e pensieri creano i mondi spirituali anche se voi vivete ancora sulla terra Certo, ciascuno di voi crea il mondo che sarà suo Allo stesso modo, gli spiriti coinvolti nella caduta crearono nuovi mondi in conseguenza delle loro mutati atteggiamenti Mondi oscuri, spesso definiti col termine di inferno A creare tali forme furono gli atteggiamenti di disarmonia e di odio Non vi è una sola maniera in cui questo può accadere Supponiamo, ad esempio, nel suo stato di perfezione un essere, come sua caratteristica particolare, abbia una grande forza d'amore Il fuoco dell'amore divino Questa forza d'amore si volgerebbe quindi nel suo opposto Creando una fiamma di odio e malvagità In tal modo, prenderebbe vita una sorta di mondo infuocato, molto disarmonico Vedete perciò che tutte le leggende non sono così irreali come potrebbero apparirvi Supponiamo che un altro essere nel suo perfetto stato di evoluzione Avesse la caratteristica particolare del saggio giudizio Della calma e della riflessione distaccata Questi attributi permetterebbero a quell'essere di arricchire la creazione divina in un modo particolare Attraverso il lento di spiegarsi di questo speciale potere creativo Diretto e in senso opposto Questo potere creerebbe un mondo di freddezza glaciale Di glaciale oscurità ed esolazione Ci sono molti altri mondi possibili Di come le infinite varietà di attributi divini Possono mutarsi nel loro opposto Dando vita nel mondo dell'oscurità Alle corrispondenti sfere Di cui esiste un'infinita varietà Proprio come nel mondo divino Queste sfere di fuoco O di glaciale freddezza In senso spirituale Naturalmente Sono solo due esempi Ci sono sfere di melma e sozzura Sfere di intensa sofferenza Dovute al sovraffollamento O all'isolamento E una grande quantità di altri Poiché uno dei più importanti aspetti divini È la libertà di scelta O libero arbitrio Anch'esso dovette volgersi nel suo opposto Il primo spirito a soccombere alla tentazione Di abusare questo potere Colui che viene a volte chiamato Lucifero O Satana O il demonio E che influenzò altri a seguirlo Fu naturalmente il primo Ad abitare il nuovo mondo Venutosi a creare Questo spirito Aveva un completo potere Su tutti coloro che lo seguirono E al contrario di Dio Usò questo potere Dio Lascia la libertà di scelta E questo Ha un significato molto più profondo Di quanto possiate immaginare Da questa libertà Deriva necessariamente La possibilità di abusarne E di usarla Andando contro le leggi divine Senza la libertà di scelta Non ci sarebbero Né libertà Né potere Infatti Non può esserci Divina felicità Assolutamente Alcuna divinità Se questa Non può essere Raggiunta e mantenuta Attraverso il libero arbitrio Allo stesso modo L'opposto di Dio E delle sue leggi Deve essere La negazione Della libera scelta E il dominio Perdono Ripeto E il dominio Del più forte Sul più debole Con questo stato di cose La salvezza degli esseri caduti Apparirebbe quindi Impossibile Perché Anche qualora Essi Arrivassero al punto Di desiderare Di ritornare a Dio Non avrebbero il potere Di farlo In quanto Sottoposti Al dominio E al potere Di colui che regna Nel mondo Dell'oscurità D'altro canto Come avrebbe potuto Dio Salvare Quegli esseri Che aspiravano Ardentemente A tornare da Lui Senza infrandere Le sue stesse leggi Se Dio Avesse dovuto Usare il suo Infinito potere Prevaricato Prevaricando Il libero arbitrio E la scelta Di coloro Che decisero Di usare A modo loro Il potere ottenuto Egli Agirebbe In realtà Secondo Lo stesso principio Di Lucifero Quindi Più che in ogni Altra cosa Era importantissimo Mantenere fermo Il principio Divino Perché Solo rimanendo Dio Corrente a se stesso E alle sue leggi Sarebbe rimasta Una fondamentale Differenza Tra la via di Dio E quella di Lucifero Dal momento Che è Disegno di Dio Che ogni creatura Possa Riconoscerlo E prima o poi Ritornare a Lui Per libera scelta Riacquistando La divinità Era imperativo Che egli Non osasse Gli stessi mezzi Di forzatura Del suo antagonista Nonostante Il suo scopo Fosse buono Non è Il solo Fine A contare Ma anche I mezzi Sono molto Importanti Solo se Rimanendo Coerente A questi Principi Anche il più Testardo Degli spiriti Ecaduti Avrebbe potuto Un giorno Notare L'enorme Differenza Tra questi Due modi Di essere Comprendendo La dignità Che giace Nei principi divini Anche se questo Avrebbe significato Fare un percorso Di sofferenza Per chi Desiderava uscire Dalle Miserabili Condizioni Autoinflitte Dal momento Che la vita Spirituale È direttamente Legata All'armonia Interiore All'illuminazione E a una generale Attitudine Gli spiriti Divenuti Disarmonici Non possono Essere Semplicemente Posti In un mondo D'armonia Così come Ci si aspetta In un luogo Ameno Nel Mondo Dello spirito Il luogo In cui Vivete È al contempo Voi stessi È ciò Che da voi Prende forma Perciò Gli spiriti Un tempo caduti Dovevano E ancora Devono Raggiungere Uno stato tale Da generare Mondi armoniosi In modo Del tutto naturale È abbastanza Ovvio Che questo Lo si possa raggiungere Solamente Attraverso Il medesimo Lento processo Di sviluppo Della caduta Con la sua Degenerazione Ora Comprendete Facilmente Che Anche questo Deve accadere Per libera scelta Così Che Domande Quali Perché Dio Non si è Sbarazzato Del male Non avranno Più bisogno Di sorgere Nelle vostre Riflessioni D'altra parte D'altra parte Bisognava Trovare Un sistema Tale Che le creature Che desideravano Ritornare A Dio E seguire Le sue Leggi Piuttosto Che quelle Di Lucifero Potessero Farlo Entro Il complesso Delle Leggi Divine In questo Modo Non sarebbe Stato Infranto Il libero Arbitro Di nessuno Nemmeno Quello Di Lucifero Stesso Questo È Il grande Piano Di salvezza Nel quale Cristo Gioca Un ruolo Essenziale La prossima Volta Parlerò Di questo Con maggiori Dettagli La sfera Dell' Oscurità Ripeto Le sfere Dell'oscurità Vennero Dapprima In esistenza Laddove Gli spiriti Vivevano Sotto Il dominio Di Lucifero In principio Essi Non avevano Alcun Desiderio Né Alcuna Sensibilità Per quella Luce Che una Volta Possedevano Solo Dopo Aver Assaggiato Per un Tempo Così Considerevole La medicina Liberamente Scelta Cioè Dopo Aver Sperimentato Uno Stato Di Desolazione Alcuni Di Quegli Esseri Venno Presi Da Un Vago Anelito Per Qualcosa Di Diverso Che Neppure Loro Sapevano Cosa Fosse Inutile Dire Che Il Ricordo Di Dio E Dei Suoi Mondi Si era Cancellato A tal Punto Da permettere La Disarmonia Di Istaurarsi Ma Il Ricordo Si Ravivò Di Nuovo Appena Cambiarono I Loro Atteggiamenti Quest'ultimo Tuttavia Poteva Ristabilirsi Solo Attraverso Un processo Estremamente Lento L'oscurità Spirituale Annulla La Coscienza Che È Luce Spirituale È Proprio Come Accade Per Gli Esseri Umani Che In Mancanza Di Illuminazione Spirituale Devono Lavorare Spiritualmente Per Recuperare Barlumi Di Quella Luce Il Vago Anelito Che All'inizio Provarono In Pochi Seguiti Poi Da Altri Fu Sufficiente A portare Un Vago Accenno Di Luce Nel Loro Ambiente Come Se Un Alba Lontana Mutasse Leggermente I Suoi Contorni Del Loro Mondo Il Freddo Non Sarebbe Più Stato Così Freddo Il Fuoco Non Sarebbe Più Stato Così Ardente La Sporcizia Non Più Così Sporca E La Solitudine Non Più Così Insopportabile E Senza Speranza Quando Un Numero Sufficiente Di Spiriti Entrò In Uno Stato Distruggente Desiderio Un Desiderio Crescente Il Tempo Fu Maturo Per La Crescita Del Mondo Materiale Così Come Sapete Che Prese Forma Potreste dire Che Dio Creò Il Mondo Materiale Questo È Vero Perché Niente Può Essere Creato Senza La Forza Creativa Divina Tuttavia È È E Igualmente Vero Che Il Mondo Materiale Fu Creato Anche Dall'Abrama Di Un Numero Sufficiente Di Spiriti Per Qualcosa Di Più Elevato Il Mondo In Cui Ora Vivete È Il Prodotto Del Desiderio Del Vostro Sforzo Ad Ascendere Qui Esistono Le Condizioni Per Cui Lo Sviluppo Spirituale Può Procedere E Nel Quale Può Essere Esercitata La Libertà Di Scelta Di Andare Verso Dio Cosa Impossibile Nei Mondi Dell'Oscurità In Altre Parole Questa Sfera Terrestre È Il Risultato Dell'aspirazione Degli Spiriti Caduti Ed È Parimenti Un Prodotto Dell'aspirazione Di Tutti Quegli Esseri Che Rimasero Con Dio Il Cui Più Profondo Desiderio Fu Sempre Ed Sia I Mondi Divini Sia Quelli Dell'Oscurità Contribuirono Alla Creazione Di Questa Sfera Terrestre L'influenza Di Entrambi I Mondi Ancora Esiste E Si Manifesterà A Secondo Dell'atteggiamento Di Ogni Singolo Essere Che Su Questo Piano Possiede Il Potere Del Libero Arbitrio Su Questa Sfera Terrestre Le Condizioni E Le Circostanze Sono Ovviamente Diverse Grazie Alla Nuova Forma Della Materia Ma D'altronde Le Circostanze Variano In Ogni Tipo Di Sfera Molto Prima Che Gli Spiriti Caduti Si Sviluppassero Abbastanza Da Potersi Incarnare Come Uomini E Donne La Forza Vitale Spirituale Agì Innanzitutto Per Creare Altre Forme Di Vita La Forza Vitale Originaria Che Opera E Manifesta Se Stessa In Ogni Animali Piante E Minerali Ma Anche Altre Sostanze Che All'inizio Erano Prive Di Autoconsapevolezza Proprio Come Una Pianta Non Ha Autoconsapevolezza Altrettanto Valeva Per Queste Sostanze Col Passare Del Tempo Sempre Più Creature Incominciarono A Desiderare La Luce Questo Era In Pratica L'unico Sentimento Che Quegli Esseri Avessero A quel Tempo Con Molta Gradualità Attraverso Molti Stati Intermedi Gli Esseri Umani Vennero Alla Vita In Forma Materiale Questo Accade Si compì La fase Più Importante Quello Quello Fu Il Momento In Cui Nacque O Rinacque O Si Risvegliò Il Primo Barlume Di Autoconsapevolezza Sempre Più Individui Vennero A Vivere Sulla Terra Solo Con L'autoconsapevolezza Che Include Il Pensare E Il Decidere Può Avere Luogo L'Evoluzione Tutte Le Forme Di Vita Che Esistevano Prima Degli Esseri Umani Furono Condotte Fino A Quel Punto Sapete Tutti Che Gli Esseri Umani Crearono Il Loro Mondo Spirituale Ed Essi Sulla Terra Dove Già Esisteva L'influenza Del Mondo Divino Per La Prima Volta Dai Tempi Della Caduta Ora Avevano L'opportunità Di Imparare Di Cambiare Di Volgersi A Dio E Di Creare Così Un Mondo Migliore Per Se Stessi Sia Nella Materia Sia Nello Spirito Essi Passavano Al Piano Spirituale Dopo La Morte Del Corpo E Questo Avveniva Anche Durante Il Sonno Mentre Il Corpo Riposava Del Mondo Spirituale Essi Ricevevano Ispirazioni E Influenze Di Ogni Genere Questa È La Ragione Per Cui L'evoluzione Non Può Procedere Più Velocemente E Infatti Tutti Gli Esseri Incarnati Si Trovano All'inizio Così In Basso Nel Loro Sviluppo Da Essere Costantemente Influenzati Dalla Loro Stessa Sfera Se Il Mondo Divino Non Avesse Anche Assogito Su Questa Terra Non Ci Sarebbe Stata Nessuna Differenza Fra La Sfera Terrestre E Una Sfera Del Mondo Dell' Oscurità Dovete Rendervi Conto Amici Miei Che Posso Darvi Solo Uno Schizzo Molto Approssimativo Di Tutto Questo Argomento Tocca Profondissime Questioni Che Non Possono Essere Compiese Pienamente Da Un Essere Umano Perché Sia Il Linguaggio Che La Comprensione Umana Sono Troppo Limitati Perciò Di Norma Non Amo Dilungarmi Troppo A Parlare Di Queste Cose Perché Voi Dovreste Principalmente Imparare A Conoscere La Vostra Anima E Svilupparla Spiritualmente Tuttavia Gli Essere Umani Ragionano Spesso Su Questi Argomenti Fondamentali Non Solo Per Curia Curiosità Ma In Buona Fede E L'ignoranza E Le Concezioni Errate Su Alcuni Di Questi Punti Potrebbero Ostacolare Seriamente La Vostra Evoluzione Questo È Il Motivo Per Cui Sono Stato Incaricato Di Darvi Questa Serie Di Lezioni Nonostante Alcune Di Voi Possano Non Avere Ancora Una Percezione Interiore Sufficiente Per Cogliere La Verità E Il Profondo Significato Di Questi Insegnamenti Che Vi Porto Sia In Un Profilo Generale Sia Per La Vostra Vita In Particolare Come Si Manifestò L'Influenza Del Mondo Di Dio Potevano Gli Angeli Di Dio Guidare O Ispirare Gli Esseri Umani Che Si Erano Incarnati Nelle Sfere Dell' Oscurità Questo Sarebbe Stato Impossibile Poiché Secondo La Legge Un Un Essere Umano Deve Fare Il Primo Passo Per Poter Ricevere L'aiuto Del Mondo Divino E Come Poteva Essere Fatto Questo Passo Se L'entità Nel Suo Complesso Era Ancora Talmente Grossolana Da Non Avere Il Minimo Sentore Di Dio Una Ben Che Minima Idea Del Mondo Divino E Nessuna Cognizione Su Che Cosa Fare D'altro Canto Il Mondo Di Dio Aveva Cooperato Alla Creazione Di Questa Terra Materiale E Perciò Secondo La Legge Del Libero Arbitrio Aveva Il Diritto Di Manifestare La Sua Influenza Sulla Terra La Risposta È Che I Pur Spiriti Che Erano Rimasti Nei Mondi Divini Scesero A Incarnarsi In Ogni Epoca Per Sicurezza Se Ne Incarnavano Solo Pochissime Alla Volta Ma L'influenza Di Uno Solo Di Tali Esseri Controbilancia Ampliamente La Forza E L'influenza Di Centinaia Di Creature Nel Mondo Dell' Oscurità Gli Spiriti Che Si Incarnavano Dal Mondo Divino Portavano Con Saggezza Con La Loro Incarnazione Essi Svolgevano Una Grande Missione E La Loro Influenza E La Tale Da Estendersi Al Di Là Di Quanto Si Sarebbe Potuta Dire A Prima Vista Attraverso Quell' Influenza Costantemente In Crescita Lungo Le Ere Gli Spiriti Caduti Durante La Loro Incarnazione Sulla Terra Avevano Ora La Possibilità Di Scegliere Liberamente A Quale Delle Due Parti Dare Ascolto Il Lato Connesso Alla Loro Natura Inferiore O Quello Che Sembrava Spingerli Più In Alto Nonostante Tutte Le Difficoltà Incontrate Con Questa Libera Scelta La Legge Di Dio Riguardante Questo Aspetto Della Vita Non Fu Violata Funero Allora Stabilite Comunicazioni Con L'altrove Non Solo Attraverso Guida E Ispirazione Ma Cosa Sempre Esistita Che Sempre Esistirà Tramite Una Forma Più Diretta Di Comunicazione Vale A dire Ciò Che Oggi Chiamate Medianità Con Svariate Modalità La Comunicazione Con Le Sfere Dell'aldilà Dipende Interamente Dall'atteggiamento Dallo Scopo E dall'evoluzione Complessiva Del Medio Così Come Dalle Persone Che Utilizzano Il Canale Nei primi Tempi Gli esseri Umani Una volta Spiriti Caduti Non Potevano Avere Alcuna Comunicazione Se non Con i Mondi Dell'oscurità Ma I puri Spiriti Incarnati Erano In Comunicazione Con Le Dimensioni Di Dio E Questo Controbilanciava Tanto Concretamente Il Mondi Luciferici Da Valerne Concretamente La pena Secondo la legge Si poteva Esistere La comunicazione Con un altro Mondo Allora Doveva essere Garantita Anche La comunicazione Con l'altro Se l'una Fosse Stata Impossibile Allora Anche L'altra Avrebbe Voluto Esserlo Altrettanto Impossibile Fra L'altro E' Qui Che Alcuni Esseri Umani Commettono Un Grande Errore Pensando Che Ogni Comunicazione Con L'altrove Sia Luciferica E Pericolosa Affermando Persino Che Sia L'unica Possibile L'evoluzione Umana Non Avrebbe Potuto Procedere In nessun Caso In questi Tempi Iniziali Se I Pur Spiriti Che Saltuariamente Si erano Incarnati Non Avessero Avuto La Possibilità Di Entrare In Diretta Connessione Con Il Mondo Di Dio Dal Quale La Verità Poter Raggiungere L'umanità Per Ricevere Questo Beneficio Restando Nell'ambito Della Legge Divina Doveva Esistere Una Parità Di Forze Affinché Ogni Individuo Potesse Scegliere Liberamente Da Entrambe Le Parti Doveva Provenire Un'uguale Influenza Questo Implicava Che Sulla Terra Si Incarnasse Un Numero Inferiore Di Entità Nel Mondo Divino Poiché La Loro Forza Controbilancia Sempre E dura Di più A lungo Dell'influenza Negativa Tuttavia Specialmente Durante I primi Tempi Si ebbe Un Grande Scambio Tra Il Mondo Materiale E Quello Luciferico Gli Spiriti Oscuri Affermavano Di Essere Dei E Di Poter Fare Agli Esseri Umani Ogni Sorta Di Concessioni Qualora Essi A loro Volta Avessero Seguito Ciò Che Gli Spiriti Luciferici Imponevano Nonostante 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 Tutti Questi Danni E Pericoli Le poche Comunicazioni Che furono Stabilite Col Mondo Divino Compensarono Cento Volt I Danni I Pur Spiriti Incarnati Avevano In sé Sufficiente Illuminazione Per Diffondere La Verità Divina Come pure I requisiti Necessari Per Entrare In Contatto Con Le Sfere Divine Fuggendo Da Strumenti Infatti Senza La Connessione Medianica L'umanità Non avrebbe potuto Ricevere Tutta La Verità Di Cui Aveva Bisogno Anche Se I Pur Spiriti Non Avevano In Loro Alcuna Negatività L'involucro Materiale Di Un Corpo Richiedeva Così Tante Energie Che Gli Insegnamenti Provenienti Da Dentro Non Sarebbero Stati Sufficienti La Verità Fu Diffusa A seconda Di Come L'umanità Ad Ogni Particolare Epoca Era Pronta Ad Assimilarla Questo Andò Avanti Per Un Lungo Periodo Di Tempo Gradualmente Nuovi Spiriti Un Tempo Caduti Raggiunsero Lo Stadio In Cui Poterono Riconoscere Dio La Loro Aspirazione Divenne Consapevole E Significativa Adesso La Loro Volontà Potrà Svilupparsi Fino A Superare Gli Impulsi Negativi Della Loro Natura Inferione Il Cambiamento Che stava Avendo luogo Ebbe Un effetto Molto Maggiore Di Quanto Ora Si Possono Facilmente Immaginare Nessuno Nessuno Voi Comprende Pienamente Che Se Una Singola Persona Si Evolve In Maniera Veramente Positiva Dando Il Meglio Di Sè Essa Non Aiuta Solo Sè Stessa Ma Aggiunge La Forza Cosmica Più Preziosa Ad Un Grande Serbatoio Questa Avrà Un Effetto Decisivo Che Si Espanderà In Modo Consapevole Anche se Forse La Persona Non Riesce A Scorgere Nemmeno La Minima Parte Di Queste Effetto Man mano Che Le Persone Cambiano Esse Potrebbero Cominciare Ad Accorgersi Di Alcuni Di Questi Effetti Sul Loro Ambiente Circostante Notando Come Tutto Ad un Tratto Grazie Al Loro Proprio Combiamento Anche Gli Altri Incominciano Lentamente A Cambiare Eppure Finché La Gente Sarà Sulla Terra Non Si Renderà Mai Veramente Conto Di Quanto Lontano Si Spinge L'effetto Anche Del Piccolo Sforzo Fatto In Quella Direzione Nessun Tentativo Del Genere Sarà Mai Vano Amici Miei E Come Se Voi Tiraste Un Sasso In Uno Specchio D'acqua Calma Intorno Al Sasso Si Forma Prima Un Anello Di Seguito Molti Così Lontano Dall'estrema Periferia Tanto Da Non Poterli Più Seguire Coll'occhio Ma Gli Anelli Saranno Ancora Là Quando Una Sola Persona Supera Anche Una Soglia Di Debolezza Questo Atto Costituisce Il Maggiore Aiuto Del Piano Di Selvezza La Prossima Volta Continuerò Da Qui E Parlerò Con Maggiori Dettagli Del Ruolo Che Gesù Cristo Ha Avuto Nel Piano Di Salvezza E Ora Amici Sono Pronto Per Le Vostre Domande Domanda La Dissersione Del Cervello Di Einstein Non Mostrò Alcuna Differenza Anatomica Tra Il Suo Cervello E Quello Di Altri Esseri Umani In Senso Metafisico Che Cosa Il Cervello Inteso Come Il Veicolo Fisio Psicologico Dell'intelligenza E Dell'intelletto Risposta Questo Esperimento È Il Maggiore Esempio Della Dimostrazione Che L'intelligenza Non Risiede Nel Corpo Fisico L'abilità Di Pensare E Di Creare Non Ha Niente A Che Fare Con Gli Organi Fisici A Meno Che Naturalmente L'organo Fisico Non Sia Danneggiato Il Che Avrebbe Un Effetto Sul Corrispondente Corpo Sottile Penso Che La Maggior Parte Di Voi Sappia Che Tutti I Pensieri Hanno Origine In Uno Dei Corpi Sottili Così Come Tutti I Sentimenti Nascono Da Un Altro Corpo Sottile Col Procedere Dell'evoluzione I Corpi Sottili Si Integrano Per Diventare Alla Fine Uno Solo Cioè Il Corpo Spirituale La Dove Tutti I Pensieri E Sentimenti Purificati Perfetti Verranno Integrati Nell'uomo Definitivo Ed Eterno Corpo Sottile Prima Che ciò Si Verifichi Fermarrà Una Divisione In Cui Ogni Funzione Continuerà Ad Appartenere Ad Uno Stato Speciale O Corpo Sottile Lo Strato Fisico Ha Come Sua Unica Funzione La Vita Fisica Nei Suoi Aspetti Ma Il Pensare E Il Provare Sentimenti Che Appartengono A Regni Differenti E Hanno Luogo Quindi In Strati O Corpi Diversi Domanda Potresti Dirmi Qualcosa Sui Bodhisattva In Relazione A Gesù Cristo C'è Qualche Relazione Tra Loro Risposta Non C'è Alcuna Relazione Diretta La Parola Che Usate Noi Abbiamo Termini Differenti Disegna Un Particolare Tipo Di Essere Del Mondo Divino Tutti Gli Esseri Creati In Origine Possedevano Uno Specifico Aspetto Divino Particolarmente Sviluppato E Lo Scopo Della Creazione Era Quello Secondo Cui Ogni Essere Avrebbe Completato La Creazione Stessa Approfondendo Altri Aspetti Divini Attraverso La Propria Evoluzione Il Modo Da Raggiungere La Perfezione Non Non Solamente In Un Solo Specifico Aspetto Ma In Tutti Questo È Il Modo In Cui Tutti Gli Esseri Avrebbero Potuto Usare La Forza Creativa Che Fu Invece Utilizzata Soltanto Da Coloro Che Non Usarono Di Questo Potere La Perfezione Assoluta Esiste Solo In Dio E In Cristo Che È Dotato Della Maggior Parte Della Sostanza Divina La Perfezione Di Tutti Gli Altri Esseri È Relativa Ma Può Completarsi Con Il Loro Diventare Co Creatori I Cosiddetti Bodhisattva Sono Esseri Dotati Di Alcuni Aspetti Particolari Della Divinità Ognuno Dato Di Una Sola Quantità Particolare Proprio Per Questa Qualità Costituisce La Loro Forza Peculiare Con Cui Operano Nel Grande Piano Di Salvezza In Modi Molto Particolari O Con Mezzi Diversi E Speciali Comunque Finché Il Piano Non Raggiungerà Il Suo Completamento I Pur Esseri Dedicano I Loro Sforzi Ad Aiutare Gli Altri Con I Loro Particolari Punti Di Forza Il Piano Di Creazione Sarà Completamente Realizzato Solo Quando Ogni Essere Sarà Perfezionato Sotto Ogni Aspetto Al Momento Solo Il Cristo Oltre A Dio Naturalmente È Perfetto Sotto Ogni Aspetto I Tuoi Talenti Sono Tutti Completamente Sviluppati Tutti Gli Altri Esseri Possiedono Le Qualità Con La Libertà Di Proseguire Da Soli La Sua Creazione Sviluppando Tutte Le Altre Caratteristiche Aspetti O Qualità In Maniera Perfetta Non È Quindi Del Tutto Corretto Dire Che Una Volta Tutti Gli Esseri Creati Erano Completamente Perfetti Come Lo È L'assoluto Noi Eravamo Perfetti Solo Nel Nel Nostro Aspetto Particolare Che È Ovviamente Sempre Relativo Voi Potete Essere Perfetti Ad Esempio Nel Quadro Della Vostra Attuale Evoluzione Ma Ciò Non Significa Che Siate Perfetti In Assoluto Un Individuo Con Uno Sviluppo Molto Inferiore Rispetto A Voi Può Essere Relativamente Perfetto In Confronto Ad Altri Dei Quali È Lecito Aspettarsi Di Più Così Tranne Che Per Dio E Per Cristo La Perfezione Rimane Un Fattore Relativo Fino A Quando Il Piano Della Creazione Non Verrà Completato E Questo Dovrebbe Rispondere Alla Domanda Perché Tutti Gli Esseri Che Hai Menzionato Sono Perfetti Solo Per Certi Aspetti Mentre Cristo È Perfetto In Tutti Domanda L'ultima Volta Rispondesti Ad Che Sia Importante Sapere Si Vedere Nella Piena Realtà Di Se Stessi Per Raggiungere L'autoconoscenza Necessaria A Migliorarsi Ma Come Si Può Ottenere Questa Autoconoscenza Risposta Questa È Un'ottima Domanda Che Riguarda Una Questione Davvero Importantissima Naturalmente Con Gli Amici Con Cui Lavoro Privatamente Passo Molto Tempo Su Questo Argomento E L'ho Anche Trattato Occasionalmente Nelle Lezioni Generali Ma È Così Fondamentale E Importante Che Non Le Si Può Mai Evidenziare Abbastanza Come Giustamente Dici Prima Che La Forza Di Volontà Nell'autocontrollo Possano Essere Rafforzati Dovete Raggiungere Un Certo Grado Di Autoconoscenza In Modo Da Avere Un' Idea Precisa Del Motivo Per Cui Volete Sviluppare Le Vostre Qualità Di Quale Sia Il Vostro Scopo E Quale Direzione Dovrebbe Essere Utilizzata La Forza Di Autovolontà E Autocontrolli Per Per Avere La Forza Di Volontà Dovete Avere Chiaro In Mente L'obiettivo Però Per scoprire I vostri Veri Propositi E desideri E Soprattutto Arrivare A Conoscere Se Stessi Avete Indubbiamente Bisogno Di Possedere Già Una Certa Forza Di Volontà Per Incominciare Così Il Processo Si Muove In Entrambe Le Direzioni Nel Giusto Ordine Il Primo Passo E Stabilire Quale Sia La Vera Questione Il Perché Sia Necessario Acquisire L'autocoscienza Quali Sono I Suoi Vantaggi Quanto Costa Ottenerli Quali Sono Gli Svantaggi Del La Giusta Decisione Avrete Una Chiara Comprensione Solo Se Vi Disporrete A Riflettere Obiettivamente Incuranti Delle Resistenze Della Vostra Natura Inferiore Tutto Quello Che Dovreste Fare È Di Non Aggirare Il Problema E Riflettere Invece Sulle Cose Fino In Fondo Questo Non È Così Difficile Richiede Semplicemente Un Pizzico Di Coraggio E Di Saggezza Tutti Possiedono Un Po' Di Coraggio E Saggezza Dentro Di Sè Se Si Tratta Solo Di Lasciarli Affiorare In Superficie Come Per La Forza Di Volontà Anche Qui È Questione Di Decidersi Una Volta Per Tutte Questo Può Essere Fatto Solo Considerando Tutti Gli Aspetti Della Questione Il Problema Che Hanno Molte Persone Non è tanto Quello Di Essere In Grado Di Farlo Ma Che Evitano Di Prendere Tutte Le Decisioni Ricordanti La Vita Interiore Se Non Ottengono Ripeto Se Se Tengono Ben Lontane Sentendo Che Tutto Questo Potrebbe Non Risultare Piacevole Preferiscono Evitare Di Guardare In Faccia La Questione Invece Che Affrontarla Chiaramente Con Mente Aperta E Non Prevenute Senza Viziare Il Pigro Se Inferiore Cui Piace Sguazzare Nella Palude Dell' Auto Indulgenza Quindi Va Individuata La Ragione Della Difficoltà E Del Fastidio Del Conoscere Se Stessi Non È Tanto Difficile Rispondere A Queste Domande Almeno Non Per Le Persone Che Sanno Che Dio Esiste Anche Se Ignorano Ancora Molti Aspetti E Riguardano Lui E La Sua Creazione Anche Se La Vostra Fede È Debole Se 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 Seguite Il Ragionamento Fino In Fondo Arriverete Sicuramente Alla Comprensione Che È Necessario Evolversi E L'evoluzione Non Può Procedere Senza La Conoscenza Di Sè La Conoscenza Di Sè È L'unica Cosa Che Conti Realmente Amici Miei Non Vi È Nulla Di Più Utile Nulla Che Favorirà Mai Allo Stesso Modo La Vostra Evoluzione O Vi Permetterà Di Vede E Vero Amore Verso Dio Prima Di Ogni Altra Cosa Verso I Vostri Fratelli E Sorelle E Poi Verso Voi Stessi Dovrete Partire Da Voi Stessi Prima Di Riuscire A Ottenere La Libertà E L'armonia Con Cui Aspirate Dal Più Profondo Del Vostro Essere In Realtà Non Importa Quale Tipo Di Sentiero Scegliete Ma Ma se Questo Non Prevede La Completa Conoscenza Di Sè O Non Fa Essere Il Requisito Più Importante Non Realizzerete Mai Nulla Indipendentemente Da Quanto Studiate Quanto Leggiate E Quante Cose Facciate Tutte Queste Cose Non Contano Nulla Salvo Che Non Osiate La Comprensione Che Acquisite Lungo Il Sentiero Della Conoscenza Della Vostra Anima Quindi Come Dovete Fare Naturalmente Non È Facile Ma I Benefici Che Ne Derivano Sono I Più Preziosi Perché Questo Tipo Di Sentiero È L'unico Che Vi Potrà Rendere Liberi Così È Del Tutto Logico Che Non Possa Essere Facile Ciò Significa In Primo Luogo Essere Capaci Di Farvi Umili A Nessuno Piace Sentirlo Dire Amici Miei Perché La Volontà Del Piccolo Io L'Ego E La Vanità Esistono In Ogni Essere Umano E Sono I Più Grandi Ostacoli Alla Perfezione Alla Fede All'armonia E All'amore Quelli Che Siano I Vari Difetti Individuali Questo Fatto Si Applica Senza Eccezioni A Tutti Coloro Che Attraversano Il Ciclo Delle Reincarnazioni In Altre Parole A Coloro Che Non Sono Pur Spiriti Se Volete Conoscere Voi Stessi Dovete Innanzitutto Riconciliarvi Con Questa Idea Devo Fare Proprio Quello Che Mi Risulta Più Difficile Perché Questa È La Chiave Se Per Voi La Cosa Più Difficile È Mostrare Di Avere Una Debolezza Allora Ammettere Che È Proprio Ciò Di Cui A Fatica La Vostra Anima Ha Bisogno Di Liberarsi O Se Per Voi È Difficile Sbarazzarvi Della Vostra Vanità O Del Vostro Egoismo Allora Vi Ci dovreste Buttare Dentro Di Vostra Iniziativa La Scelta Vostra E Non Perché La Vita Vi Costringe A Farlo Vedete Amici Miei Le Leggi Divine Sono Fatte In Modo Tale Che Le Cose Di Cui Avete Bisogno Vi Vengono Incontro Ma Sarebbe Tanto Più Facile Se Anche Voi Andasse Incontro A Loro A Metà Strada Dicendo Per Conto Vostro Sono Io A Volerlo Perché È Ovvio Che Ne Ho Bisogno Quindi Prendendo L'iniziativa Se La Vita Vi Forza O Vi Spinge Contro La Vostra Volontà Non Sarà Del Tutto Solo Molto Più Difficile Ma Gli Stessi Problemi Vi Si Ripresenteranno Continuamente Finché Grazie Alla Conoscenza Di Voi Stessi Non Avrete Capito Di Aver Bisogno Di Ciò Che La Vita Vi Mette Davanti E Di Andarvi Incontro Liberamente Allora La Rezione Sarà Stata Appresa E La Vita Avrà Altre Cose Da Processo Tanto Meno Avete Bisogno Di Esperienze Spiacevoli O Piuttosto Ciò Che Vi Sembra Spiacevole Non Lo Sarà Più Non Potete Evitare Ciò Di Cui Avete Bisogno Lo Posso Assicurare Finché Non Accettate Di Vostra Spontanea Volontà Con La Consapevolezza Con La Comprensione Della Necessità Per Il Vostro Carattere Esso Non Cesserà Vi Prego Ricordatevene Tutti Per Arrivare A Conoscere Voi Stessi Potreste Ad Esempio Sedervi E Chiedervi Qual È La Cosa Più Difficile Da Fare Nella Mia Vita Quotidiana Forse Per Alcuni Di Voi La Cosa Più Difficile Sarà Ammettere La Verità Per Qualunque Motivo Per Altri Potrebbe Essere Umiliarsi Nel Mostrarsi Per Come Sono Veramente Senza Maschera Senza La Superiorità Con cui Cercano Di Impressionare Le Altre Persone Per Altri Ancora La Cosa Più Difficile Potrebbe Essere La Modestia Rimanere In Un Secondo Piano Per Altri Ancora Invece Riuscire A Dare Qualcosa Che Sia Materiale O Spirituale O Ognuno Ha Difficoltà Diverse E Queste Si Possono Scoprire In Modo Relativamente Semplice Se Veramente Ci Si Prova Non Avete Bisogno Di Guardare Molto Lontano Pensate La Vostra Realtà Più Immediata Alla Vostra Vita Di Adesso Osservate Quel Che Vi Succede Ogni Giorno Da Questa Prospettiva E Dopo Un Po Di Allenamento E Pratica Arriverete A Considerare Le Vostre Reazioni In Modo Molto Differente Ve Lo Assicuro Imparerete A Riconoscere Reazioni Emotive Delle Quali Prima Eravate Del Tutto Inconsapevoli I Vostri Problemi Esterni Sono Solo L'Effetto Di Qualche Causa Che Si Cela Ai Vostri Occhi Ma Non Si Cela Così Profondamente Da Non Poterla Riconoscere Con Facilità Se Solo Metteste In Pratica Quel Che Vi Dico Allora Le Connessioni Vi Apparirebbero In Modo Così Chiaro Che Rimareste Sconvolti Per Non Averle Viste Prima Trovare Il Legame Tra I Vostri Problemi E Le Loro Cause Che In Maniera Inconcia Ma Deliberata Avevate Celato La Vostra Consapevolezza Avrà Un Renderà Felici Come Solo La Verità Può Fare Libererà Poteri Lenti E Forze Di Guarigione Per il Vostro Corpo E La Vostra Anima Se Farete Questo Con Regolarità Allora Potrete Essere Assolutamente Certi Di Essere Sul Sentiero Giusto Ma Siccome La Tentazione Di Lasciar Perdere È Sempre Molto Grande Dovrete Prepararvi Ad Una Battaglia Che Si Rappresenterà Ogni Volta Di Nuovo Dopo Un Po Questa Tentazione Cesserà All'inizio Però Ci vorrà Un Notevole Sforzo Per Proteggervi Dal Vostro Sei Inferiore Che Cerca Soffrocare Le Aspirazioni Del Vostro Spirito E Potreste Soccombere Qualora Il Vostro Sé Esterno Accettasse Tutte Le Scusanti Fornite Dal Sé Inferiore Naturalmente Ora Parlo In Senso Generico Non Solo Per Rispondere A Una Domanda Personale Questo Si Applica A Tutti Fate Un Elenco Dei Vostri Difetti Se Riuscite A Trovarne Solo Uno Due O Tre Allora Avrete La Dimostrazione Di Non Conoscere Bene Voi Stessi E Allora Potrete Cogliere L'opportunità Di Purificarvi E Riconoscere Voi Stessi Facendo Proprio Ciò Che All'Inizio Vi Appare Tanto Difficile Chiedete Alle Persone Intorno A Voi Quali Siano I Vostri Difetti Questo Vi Arricerà A Conoscere Voi Stessi E Vi Insegnerà L'umiltà Di cui Avete Bisogno Poiché Finché Questo Vi Resta Difficile È Un Chiaro Segno Che Ne Avete Terribilmente Bisogno Se Vi È Facile Se Non Provate Risentimento O Resistenza O Nessun Genere Di Pesantezza Dentro Di Voi Allora Non È Più Rilevante Non Importa Quel Che Cercate Di Fare Credere Agli Altri Ciò Che Importa È Come Vi Sentite Quando Qualcuno Vi Fa Notare Le Vostre Limitazioni Se Osservate Puntigliosamente Che Cosa Provate Quando Questo Succede E Se Non Volete Prendervi In Giro Sapete Che A un Certo Punto Vi Trovate Spiritualmente Questo È Il Solo Modo Per Raggiungere Un Reale Distacco Amici Miei Quando Non Vi Importa Più Di Ammettere I Vostri Limiti Agli Occhi Dell' Altri Quando La Vostra Umiliazione Non Conta Più È Allora Che Siete Distaccati E Non Quando Evitate Le Cose Che Vi Disturbano Fare Tutto Questo È Difficile Almeno All'inizio E Forse Non Tutti Sono Ancora Pronti Alcuni Possono Aver Bisogno Di Altro Tempo Di Maggiore Conoscenza Di Fare Mille Altre Cose Per Poter Veramente Imboccare Il Sentiero Ma Chiunque Lo Farà Diventerà Veramente Libero Se Intraprendete Questi Primi Passi Dio Vi Aiuterà Lungo Tutto Le Fasi Successive Della Realizzazione Così Il mio Consiglio È Questo Riflettete Innanzitutto Su quel Che vi Sembra Più Difficile Nel Rapporto Con Gli Altri Dopo Che L'avete Scoperto Considerate A quale Vostra Tendenza Interiore La Potreste Ricollegare Alla Fine Decidete Se siete Veramente Pronti A Superare Qualunque Cosa Vi Incatene A Questo Mundo Non solo Per il bene Della vostra libertà Ma per l'amore Di Dio Per il bene Del vostro spirito Del vostro sesso Superiore Del vostro sviluppo Per l'amore Che solo a questo punto Potreste dare E ricevere E per la vostra Completa Realizzazione Siete pronti A farlo Quanti Dei miei amici Qui Lo sono E poi Se avete deciso Con un grande E sentito Sì Avrete bisogno Della vostra Volontà Mie cari Avrete bisogno Di volontà E autodisciplina Per affrontare Tutti i vostri difetti Cosa Che vi sarà Impossibile Se Li ricacciate Nel subconscio Se li nascondete Per non farli emergere Alla superficie Infatti Non crediate Che le cose Di cui Non siete consapevoli Non esistano Il processo Di eliminazione Dei vostri difetti Che è il passo successivo Alla conoscenza di sé È molto diverso Brevemente È il processo È questo All'inizio Osservatevi Per come siete Veramente Senza vanità Senza voler essere Migliori O più avanzati Di quanto Non lo siate Il momento Basta solo Che facciate Il punto Della situazione E vi abituate A vedere Dove siete Adesso E non Dovreste essere Accettate La vostra Temporaneità La realtà Per due ragioni Uno Dovreste essere Impassibili E tranquilli Su come siete Prima della vostra Trasformazione Questo Richiede Una nuova abitudine A osservarvi Con chiarezza Per un certo periodo Senza altri motivi Scuse O eccecità Due Questo vi insegnerà Anche la necessaria Umiltà Che è anche Un requisito Essenziale Dello sviluppo Spirituale E del vero distacco Accertarvi Per come siete Adesso Non significa Che dobbiate Rimanere così La meta Ultima Prevede Il cambiamento Delle tendenze negative Ma questo Non si può fare Prima che Abbiate Completamente Accettato Lo scopo E lo Scusate Ripeto Ma questo Non si può fare Prima che Non abbiate Completamente Accettato Lo stadio In cui Vi trovate Al momento Così Osservate Giornalmente Quando E come Si manifestano I vostri Difetti Non soltanto A livello Esterno Ma anche Nelle vostre Emozioni Osservando Le vostre Relazioni Imparerete A constatare Quanto siete Ancora Lontani Dall'accettarvi Senza Belli menti Dopo aver Padroneggiato Questa fase Si può dire Ripeto Dopo aver Padroneggiato Questa fase Si può dare Inizio Alla successiva Nella quale Riflettere Su quale sia L'opposto Di ogni Specifico Difetto Su come Reagireste E vi Sentireste Se Avesse Già Completato La trasformazione E Farete Questo Con fiducia Per un Certo Periodo Chiedendo Dio Ispirazione L'aiuto E la Forza Inizierete A sentirvi Diversamente Le vostre Nuove Reazioni Interiori Vi Renderanno Così Liberi E vi Faranno Sentire Così Bene Potreste Anche Meditare Su come Ognuno Dei vostri Particolari Difetti Rappresenti Un ostacolo Diretto All'espressione Dell'amore Poiché Ogni difetto È proprio Questo Offusca La forza Dell'amore Nell'anima Se Procederete Su Questo Sentiero Dio Vi Guiderà E Vi Ispirerà Di Questo Potete Esserne Assolutamente Certi Come Vi Ho Già Detto Questo È Un Sentiero Difficile Ma Sono Benedetti Quelli Che Lo Intraprendono E Quelli Che Hanno Il Coraggio E La Saggezza Di Farlo Amici Miei So Di Avervi Somministrato Una Forte Medicina A nessuno Piace Udire Queste Cose Sarebbe Molto Più Piacevole Udire Qualcosa Di Facile O Senza Riferimenti Personali Ma Sfortunatamente Questo Non Corrisponderebbe Alla Verità E Dal Momento Che Io Sono Uno Spirito Di Verità Del Mondo Di Dio Devo Offrirvi La Verità Per Quanto Scomoda Tuttavia Per Quanto Amara Possa Essere Questa Medicina Penso Che Se Aprirete I vostri Cuovi Sentirete Sicuramente Che L'amore Che Provo Per Ciascuno Di Voi L'amore Non Può Giungere Da Nessuna Parte Se Non Dal Mondo Divino E Voi Dovreste Essere Grati Solamente A Dio Che Sia Per Mio Tramite O Attraverso Un Altro Spirito Divino Indipendentemente Da Quanto Possiate Venire Aiutati Ogni Creatura Vivamente E Nulla Senza Dio Più Una Creatura È Evoluta E Meno Cercherà Per Sè Onore E Ammirazione Quelli Che Sono Dovuti Solo Al Creatore Senza Il Quale Noi Non Siamo Nulla Questo Vale Per Noi Spiriti Tanto Quanto Per Voi Umani Quando State Realizzando Qualcosa Di Qualunque Cosa Si Tratti Rendetevi Conto Che Potete Farlo Solo Per Mezzo Della Grazia Di Dio E Mai Da Soli Da Soli Non Siete Nulla Il Più Elevato Essere Che Si Ha Mai Esistito Cristo Stesso L'ha Detto Ripetutamente Domanda Ho capito Ho capito Che Quando Siamo Incarnati Sulla Terra Abbiamo Dei Limiti Per Quanto Riguardo Il Nostro Sviluppo Spirituale È Possibile Aprirsi Un Valco E Andare Oltre I Limiti Che Ci Sono Stati Imposti Risposta Oh Sì Tuttavia Vi Dico Che Non Potete Compiere Tutto In Una Sola Incarnazione Questo Sarebbe Impossibile Ma Potete Certamente Spezzare Questi Limiti Questo Avviene Frequentemente Ma Può Verificarsi Solo Grazie A ciò Che Abbiamo Appena Spiegato Nella Precedente Risposta Circa Questo Sentiero Che È Tra I Più Innobili Se Una Persona Possiede Veramente La Volontà E Se Questa Volontà Viene Messa In Pratica Allora I Limiti Ricedono E Già In Una Sola Vita Si Possono Realizzare Tante Cose Riuscire A Fare In Una Sola Incarnazione Tutto Quello Che Fate Inboccando Questo Sentiero Questa È La Differenza Questo Esempio Dovrebbe Darvi Un'idea Del Vostro Potere Di Disprezzare I Limiti Domanda Ma Non Tutti Sono Guidati A Questo Sentiero Ci Sono Molte Persone Che Non Lo Sono Risposta In Per Intraprendere Un Sentiero Di Questo Tipo Amici Miei Certamente L'aiuto Che Una Comunicazione Diretta Con Uno Spirito Del Mondo Di Dio Può Dare È Prezioso Ma Chiunque Abbia La Ben Che Minima Possibilità Di Imboccare Il Sentiero Verrà Guidato In Ripeto Questo Potrebbe Avvenire Tramite Una Chiesa Un Insegnante Particolare O Uno Spirito O Attraverso Una Comunicazione Diretta Molto Potente Per Mezzo Dell' Ispirazione Gli Spiriti Riconosceranno Dove Esiste Questa Potenzialità Riconoscendo Se Ne Esiste Il Desiderio E Se Può Essere Stimolato Quindi Guideranno Di Conseguenza Ognuno Otterrà Esattamente Ciò Di Cui Ha Bisogno Di Questo Potete Esserne Sicuri Non Capita Mai Che Sia Pronto Per Il Sentiero Chi Non Abbia Avuto L'opportunità Di Trovarlo Questo Non Succede Amici Miei Le Leggi Del Mondo Divino Lavorano Troppo Accuratamente Perché Ciò Accada Il Problema Piuttosto È Che Una Grande Perciò Antuale Di Persone Che Potrebbe Prendere Questo Condotta Là Dove Potrebbe Imboccarlo Alla Fine Non Lo Fa Spesso Il Mondo Divino Tenta E Ritenta Offrendovi Differenti Opportunità Ma L'essenza Non Viene Mai Compresa Perché La Gente Non Vuole Comprenderla Guardate Solo Al Vostro Gruppo Ed È La Stessa Cosa In Qualsiasi Altro Gruppo Arrivano Molte Più Persone Di Quante Poi Rimangono E Lo Seguono Realmente Credetemi Questo Non Viene Ripeto Credetemi Questo Non Avviene A Scapito Di Altre Persone Che Potrebbero Non Avere Tale Opportunità Sia Qui Che Altrove Solo Una Manciata Di Persone Su Diverse Centinaia Intraprenderanno Veramente E Propriamente Questo Sentiero Ogni Grande Persona Maestro Religioso Ogni Comunicazione Con il Mondo Divino Sarà D'accordo Su Questo Fatto Molte Persone Vengono Guidate All'Uno Ma Solo Una Piccolissima Parte Adempirà Allo Scopo Di Quella Guida La Stragrande Maggioranza Degli Esseri Umani Tuttavia Non È Ancora Pronta A Intraprendere Questo Difficile Sentiero Di Perfezione Se In Questa Vita Impareranno Quel Tanto Per Diventare Persone Migliori Ad Accettare Che Tutto Sommato Forse Dio Esiste Per Questo Potrebbe Prepararle Al Sentiero Nella Prossima Incarnazione Così Vedete Il Mondo Spirituale Esplorando Anche Le Possibilità Più Remote Offre Realmente Un'occasione A Molte Più Persone Di Quante Poi Finiranno Per Approfittare Dell'opportunità Potete Essere Sicuri Che Coloro Che Non Vengono Guidati Da Nessuna Parte O Coloro Che Non Hanno Alcun Desiderio Né Reale Comprensione Non Hanno Ancora In Questa Vita La Più Vaga Possibilità Di Cambiare Oppure Hanno Già Trovato Ciò Di Cui Avevano Bisogno E Ciò Che È Meglio Per Loro In Questa Incarnazione Lo Spirito È L'essere Ultimo L'essere Indistruttibile Che Vive Eternamente L'anima È Uno Dei Corpi Sottili Che Alla Fine Si Disintegrerà Ti È Chiaro Credo Che Tu Voglia Sapere Come Questi Due Si Manifestino In Modo Da Poterli Riconoscere È Questo Che Ciò Intendi Esatto Naturalmente Non è Facile Far Si Che Lo Spirito Si Manifesti Consciamente Questo Può Avvenire Soltanto Quando L'esvoluzione Spirituale Ha Raggiunto Un Certo Punto Quando È Avvenuta Una Svolta Nel Sè Superiore Di Una Persona Allora Sentirete Qualcosa Che Pensa Dentro Di Voi Vi Dirige Vi Invia Vi Invia Messaggi Vi Dà Una Profonda E Incost Discutibile Conoscenza Tutto Questo Non Proviene Dalla Regione Cerebrare Dove Ha Avuto Luogo Il Normale Processo Mentale Ma Dalla Regione Del Vostro Plesso Solare La Vostra Anima Invece Si Manifesta Nella Vostra Vita Emozionale Nei Vostri Sentimenti Nel Vostro Subconscio Anche Per Diventare Consapevoli Dei Vostri Sentimenti È Necessaria Molta Conoscenza Di Sè La Inconsapevole Dei Propri Reali Sentimenti E Delle Reazioni Emotive Così Ne Rimane Schiava Ne Viene Controllata Invece Di Controllare E Di Governare Per Raggiungere Questa Maestria Sono Necessarie Autosservazione Obiettività E L'Autocritica Se Seguirete Quel Che Vi Ho Consigliato Stasera Nella Mia Seconda Risposta Otterrete Prima Di Tutto La Consapevolezza Dell'anima E Successivamente La Consapevolezza Dello Spirito Risponderò Alle Domande La Prostima Volta Amici Miei Perché Il Tempo A Nostra Disposizione È Scaduto Prego Tutti Voi Specialmente Coloro Che Sono Venuti Per Adattarsi Adattarsi Questi Nuovi Modi Di Vedere Non Bloccate La Vostra Visione Con Conclusioni Troppo Affettate Pensate Seriamente E Attentamente E Non Lasciate Che La Vostra Emozione Inconce Vi Giochino Un Brutto Scherzo Offuscando Il Vostro Giudizio Fate Attenzione A Tutto Questo Perché Potreste Arrecare A Voi Stessi Un Grande Danno La Benedizione Di Dio Scendono Su Ognuno Di Voi Accogliete Queste Benedizioni Con Consapevolezza Affinché Possano Aiutarvi Nelle Vostre Decisioni Possano Rafforzarvi Nel Riconoscere La Volontà Di Dio E Agire Di Conseguenza Siate In Pace Siate In Dio Avete Ascoltato La Lezione Della Guida Del Sentiero Numero 21 La Caduta Per Ulteriori Informazioni Visitate www.bibliotecadelsentiero.org